Ottimo risultato quello raggiunto dal Consorzio Punte Europa che è riuscito ad ottenere l'approvazione di tutti e nuovi progetti presentati nel programma unitario di intervento relative alle aree Sisma 2009-2016 del Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il COPE ha curato la candidatura di molti progetti su Terra nell'Aquila in diversi settori. Due giorni fa la cabina di coordinamento integrata 2009-2016 presieduta dal commissario Guido Castelli ha approvato la gradatoria relativa ai bandi di Next Appennino. È molto importante il dato perché parliamo del 100% dei progetti che abbiamo candidato sul Next Appennino che sono stati finanziati. Parliamo di milioni di euro per imprese e per il territorio. Davvero una grande soddisfazione per il Consorzio che ha cercato di animare, informare la collettività, le imprese, i portatori di interesse su questo bando così importante che riguarda il PNRR Sisma complementare. Quindi per queste due aree del cratere 2009-2016 sono risorse importanti, vanno spese bene, devono essere progetti sostenibili e di qualità e noi abbiamo giocato la nostra parte come Consorzio e i punteggi e il 100% dei progetti aggiudicati ci danno molta soddisfazione e orgoglio. Fondi per un totale di circa 10 milioni di euro, in particolare tre riguardano il turismo, quattro la sostenibilità ambientale, due il sociale per sport e formazione. Possiamo dire che sono progetti a 360 gradi perché riguardano tanti settori? Sì, turismo soprattutto ma anche valorizzazione del territorio, fondi per le imprese, per le nuove imprese, per nuovi prodotti e nuovi servizi, per l'accoglienza. Quindi devo dire che sono diversificati e sostenibili soprattutto e quindi l'Abruzzo potrà beneficiare di queste risorse straordinarie, di queste nuove imprese, di questi nuovi imprenditori o di imprenditori che hanno voglia di valorizzare il processo che hanno messo in campo qualche anno fa. Lo fanno in un momento unico e straordinario con risorse che possono essere spese velocemente e soprattutto con progetti, lo ripeto, sostenibili. È davvero importante. Grazie